Voi danzate in maniera divina, potrei conoscere il vostro nome? No, mi dispiace, ma non ve lo posso dire. Vorrei tanto fuggire con voi questa notte. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando, dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se fanno scrivere... Era il 30 gennaio 1774 quando Hans Axel, conte di Fersen, incontra per la prima volta gli occhi chiari e luminosi di Maria Antonietta d'Asburgo Lorena, futura regina di Francia. Una scossa improvvisa, un fremito d'amore attraversano la mente dei due giovani, ne rapiscono il cuore. Fersen ignora chi sia quella fanciulla con una maschera sottile sul viso. È di una bellezza straordinaria, di una regalità senza pari. La passione tra loro esplode improvvisa. Fersen è alto un metro e novanta, occhi chiari e ombreggiati da folte ciglia. È nobile, colto, sensibile. Ha il fascino nordico e l'aria malinconica. Sa conquistare qualsiasi donna al primo sguardo. Maria Antonietta se ne innamora perdutamente. Maestro. Fersen, vi supplico, dovete dimenticare che io sono una regina. Voi, voi non sapete quanto io vi amo. La loro fu una vera storia d'amore. Incontri furtivi, sguardi inequivocabili, gentilezza e slanci reciproci tra Fersen e la regina sono ormai sotto gli occhi di tutti. Pettegolezzi, commenti malevoli, cominciano a riverberare moltiplicandosi. Così Fersen torna in Svezia, per poi ritornare in Francia, per poi ripartire nuovamente come volontario nella guerra di indipendenza americana. Per mettere a tacere tutto, per necessità, per onore, per dimenticare, per amore. Voi qui, è una gioia rivedermi. È una grande gioia anche per voi. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo a te. Così, la principessa bambina, catapultata alla corte di Versailles e concessa in sposa a un uomo che non l'amava, comprenderà cos'è l'amore, quello vero, quello corrisposto. Sono tornato per morire per voi, se è necessario. Farò di tutto per proteggervi da chi non è capace di amarvi. E lui, le beau Fersen, come lo chiamavano, resterà stregato da lei e dall'opulenza della Francia, dalla sua aurea di magia, trasparzo, donne e raffinatezza. Ma Fersen tornerà, perché al cuore non si comanda, perché non si resiste al richiamo delle sirene. E Maria Antonietta è la sua sirena, l'unica donna che, fra le tante, abbia mai veramente amato. A lei consacrerà la sua vita, il suo respiro, la sua anima. Fino alla fuga di Varenne nel 1791, l'ultimo atto di un'appartenenza esclusiva, unica e irripetibile. Scriveva a Maria Antonietta al suo amato nel 1791. Non siate turbato, non mi succederà nulla. State calmo se potete. Siete il più amorevole tra gli uomini. Abbiate cura di voi stessi. Nulla potrebbe impedirmi di amarvi fino alla morte.